All'interno di Palazzo dei Giganti scontri e attacchi, gli ultimi sferrati appena un paio di giorni fa, fuori pacche sulle spalle, cordialità e sorrisi, come dire, i due volti della politica. Eccoli qui al viale della vittoria da Grigento, Roberto Di Mauro, capogruppo all'Ars dell'MPA e il sindaco Marco Zambuto, un incontro immortalato dalle nostre telecamere. Un incontro informale con il sindaco? Casuale, casuale, casuale e mi chiedeva notizia della conferenza stampa, ho avuto modo di riferirlo personalmente, del resto la situazione è sotto gli occhi di tutti, quindi aspettiamo che il sindaco sia ad opere in consiglio comunale perché possa fare tutto ciò che è possibile per mettere questo abbetto territorio in condizione di dare risposte alla cittadinanza. Potrebbe aprire un dialogo concreto, serio tra l'MPA e il sindaco Zambuto? Potrebbe fare le cose, riuscire a mettere le cose a sistema perché questa terra possa avere risorse aggiuntive, per rischio ai fondi comunitari o possa pensare di intesa con tutto il consiglio comunale un'azione di risanamento utilizzando altre risorse come quelle dell'energia eccetera eccetera. Credo che questo possa essere un elemento da valutare attentamente all'interesse dei tuoi. Se ci fossero le condizioni l'MPA potrebbe entrare in giunta? Per noi non ha importanza la presenza fisica in giunta o meglio ancora la presenza politica, quello che conta in questo momento è portare avanti un progetto, del resto per lui è il secondo mandato, quindi non ci sarà un terzo mandato, quello che farà lo farà per sé ma anche per chi verrà dopo di lui. Sindaco, in diretta possiamo sancire questa intesa tra Zambuto e l'MPA? L'intesa è sulle cose, sulle cose che si devono fare, alla luce del sole, innanzi alla città, così come stiamo facendo negli incontri che abbiamo avuto con i gruppi consigliari, con il consiglio comunale. Dal punto di vista politico quali scenari potrebbero allora aprirsi? Viviamo oggi un tempo nel quale non ci sono più ideologie o steccati ma ci sono le cose da fare, sulla capacità che avremo di dare risposta concreta ai cittadini si sanciranno equilibri e alleanze. Quando nascerà la nuova giunta? Nasce sulle cose, io sto attendendo proprio ora dopo ora uno che arrivi il finanziamento della Cassa Depositi e Prestiti per chiudere i conti del passato perché c'era stato rubato il futuro, perché una città che aveva 40 milioni di euro di debiti è una città a cui era stato rubato il futuro. Quindi chiudiamo il passato con questi soldi che andiamo a erogare ai creditori che sono rimasti, sto facendo gli incontri per fare partire il rifacimento delle vie e delle strade della nostra città, ci sono le prescrizioni esecutive pronte in Consiglio Comunale, faremo un'assemblea, un'iniziativa pubblica nella quale diremo le cose che sono state fatte, le cose che si devono ancora fare rispetto alle quali chiediamo il confronto e soprattutto gli apporti, i contributi che verranno da parte dei partiti politici in città.